buon pomeriggio a tutti ragazzi e noi in questo video parleremo del 9 episodio dell'era glacella valanga chissà forse riusciremo a battere buck e anche riuscire a completare il gioco buona visione ecco ragazzi alla strambalata avventura di scratch a 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 non l'ho fatto apposta non io pensavo che dovevo fare così ma non credevo sì ma non ho fatto granché non non ma non n non 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 Oh, no. Per uno Per uno Grazie a tutti 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 Sì Ce l'ho fatta Raga finalmente La fortuna sta tornando Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti No Non è giusto Non è giusto Beh eccoci qui Che fortuna Non è giusto 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 No Non è giusto Non è giusto Non è giusto È giusto Grazie a tutti. E ho perso un'altra volta. Raga ci siamo quasi. No! 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 Finalmente sono le 7 e 24 quindi è dalle 4 anche di più alle 12 scuola no alle 12 avevo registrato il video. Continuiamo perché questa è la seconda strambalata avventura di Scrat nella giungla tropicale reistorica. Ho trovato anche un titolo adatto raga. Inciamo tutto questo. E vediamo. Questo... So cosa vorrebbe dire. Che io devo mettere tutte le mosse. No! 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Aspettiamo fra tre minuti. E abbiamo quasi vinto raga. Devo ottenere un numero raga. Tipo un quinto. No. No. Quarantasette. Un quinto. Perfetto raga. Sì. Ce l'abbiamo fatta raga. Stiamo vincendo. Avrò perso delle partite però sto vincendo raga. Il video sarà in ritardo. Ma almeno completiamoci questa avventura. Ok. La frutta adesso raga. Le sculture. Ecco. Prima le angurie. Sei ne dobbiamo prendere. Sei angurie. Le sculture queste si chiamano. Altre tre angurie raga. E come posso fare? No. Sì. Tre banane. Una banana. Delle ananas quante però? Sempre sette. Questo è troppo. Dimitri. Dimitri. Non ci credo. No. E niente raga. Lo facciamo la prossima volta. Lo facciamo. Ok. Ok. E il video si può concludere qui. Beh ragazzi. Spero che questo video dell'era Glacella Valanga. Non episodio. La seconda strambalata avventura di Scrat. Nella giungla tropicale preistorica. Vi sia piaciuto. Vi sia piaciuto. Iscrivetevi al canale. Mi raccomando. Mettete un bel like. Seguitevi su Instagram. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.